L'arte giapponese di disporre i fiori ha un nome dolce e musicale, Ikebana. Una scuola di Ikebana si è aperta a Roma, presente l'ambasciatore del Giappone. Alla fantasia e al gusto dei maestri nipponici, i fiori italiani hanno rivelato nuove composizioni che si avvicinano all'arte. Nella scuola romana il culto del fiore avrà modo di svilupparsi secondo lo stile della ancienne vague nipponica. Una composizione floreale può divenire ausilio prezioso nell'arte dell'arredamento.